E noi ci smutiamo Ciao, Mambo No No, vabbè Mambo Eh Su, Uca Mambo Eccoci qua Eccoci qua Oh, aspettate un attimo, ragazzi Penitenze qua sotto, come sempre E poi Penitenze, avviate Eccoci Ragazzi E' successa una cosa Veramente brutta, come notate Manca qualcuno Eh sì Non iniziamo così, santi Dio Eh, Pudu Grazie mille per i sevici Franz, grazie mille T'apposto, t'apposto No, 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 no Bella per Foxy No, 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 io un attimo devo fare I suoni Ecco Perfetto Allora, raga, come notate C'è un problema Oh, cassa Aspetta spacchettamento Spacchettamento? No, vabbè Un blocco di flint No, esatto Ragazzi Lo svizzero Ragazzi Lo svizzero Purtroppo Allora Lo dico io Ok Faccio un attimo La parte di quello maturo Del gruppetto di amici Ma purtroppo Ambo E poi hanno litigato Ok E alla fine Visto che Ambo È quello che carica La serie Ho dovuto prendere Purtroppo L'hardua decisione Di tenermi All'interno Della serie Ambo E non Coe Purtroppo La decisione Era impossibile Purtroppo Ragazzi È andata così È andata così Sono state fatte cose Veramente brutte Che Non vi diciamo In streaming Non ne parliamo Non Veramente Lasciamo stare Veramente E Quindi Raga È andata così Io Spammerei un F In chat Ma È andata così Raga Niente Pazienza Pazienza Quindi Purtroppo Non abbiamo più lo svizzero Già Già Detto questo Ambo Che facciamo oggi Aspetta Stunk Mamma mia Mamma mia Che gioco di squadra Incredibile Incredibile Lolociullo Grazie mille Per i tuoi mesi Intanto Franz Grazie mille Anche a te per i otto Che facciamo Allora Oggi Dovremmo Fare una Una cosa Che stiamo portando Da un paio di live Ma Ma Non ti senti un po' solo In due Eh beh È quello che ho detto prima Purtroppo Abbiamo perso Abbiamo perso un amico Quindi che Che faccio Cosa vogliamo fare Secondo me Ambo È giunto il momento È giunto il momento È giunto il momento Ok Allora dobbiamo Fare una stanza apposita Perché Una stanza apposita Usai Vector Sì Perfetto Ok Ok È là È che c'è qui Virgi Grazie mille A proposito ragazzi Di sub regalate E Il sub in generale È luglio Si sono restate Delle classifiche Vediamo chi Di voi competerà Questo mese Per La top sub E il regalo Di luglio Io metto in nano Virgi Grazie mille Per le cinque sabone Grazie di cuore Carissima Allora Ambo Io non ho Quel tuo Ah forse Sì ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Usa Che dobbiamo farla Vabbè Quanto grande Dobbiamo farla Ma sì Cosa dobbiamo fare Allora Vai In realtà Perché siamo qui Perché devi farmi Delle rocce Vabbè Allora Torniamo in base Perché devi farmi Degli oggetti Va benissimo Capo Va benissimo Sulla via Di torno Ah Ciao Non l'avevo visto Io ti ho avvertito Minchia Non l'avevo visto Allora Sì Mi devi far Sì Quattro Source Relay Quattro Source Relay Perché la cosa Che stiamo per fare Sì È una cosa magica Ok Mi serve ovviamente Quattro Source Ok Ne ho quattro Ambo Ok Perfetto E Mi servono Anche Certo Sì Non mi ricordo No non è vero Quattro Gilded Brick Due punti Aspetta mi serve un attimo Della Epic Music Ah Giusto Giusto C'è bisogno Ok Allora Come hai detto Mi scusi Quattro Gilded Gilded Due punti Clover Gilded Brick Due punti Clover Trovati Vai Devo fare Devo fare questi Questo Devo fare questo Serve Questo Si fa così Un mio dio Ok Perfetto Ok Ora mi serve uno stone cutter Davvero non abbiamo uno stone cutter No Fatto Vai Piazzo qui Quanti viene da IT capo Quattro Clover Quattro Abbiamo tutto Abbiamo tutto Si va Ok Dobbiamo seguire il portale Il portale Che portale Questa cosa Oh Aspetta qui Capo che Capo È pieno di È pieno di mob Dobbiamo Dobbiamo chiudere i muri Non doveva succedere Però Attenzione Sembra stazione centrale di Milano Chiudo 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 Chiudi tutti i cazzi Di posto Ok Eh che vo Ok Ma questo Ti vuole vendere Le rose Che mortale Vai Ok Ok Perfetto Forse serve un po' più alto Ma se serve un po' più alto Non lo faccio Ok Allora Mi indica Dobbiamo seguire Le leggi della fine Non lo so Dobbiamo fare Sì Un 7x7 Di questi blocchi Qui 7x7 Di questi blocchi Qui Esatto Ok A terra Giusto A terra A terra C'è Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Due 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 Tre Quadrato Giusto Quadrato Sì sì Quadrato Ok Poi lo aggiungiamo Per quel che serve Certo Vado vado Ok Fatto Perfetto Aspetta che ci sono Dei blocchi In mezzo Ok Penso che siano dei blocchi Quelli di qualche cosa Struttura che si è creata Un possibile villaggio Potenzialmente Ok Non ci interessa Poi Devi mettere Sì Blocchi Questo al centro Perché Quello è il core Ok Al centro Lo metto qui Poi dobbiamo fare Sì Quattro Così così Ok A questo colore E puoi capire il perché Grigio e E azzurro Ok Poi non mi ricordo Ok Devi mettere I quattro Relay Sui tronchi Fatto Perfetto Poi ci serve Ovviamente un piedistallo Ok Al centro Perché dobbiamo anche Mettere un oggetto Abbiamo fatto la struttura Di base Adesso dobbiamo fare Un po' più di estetica Per la struttura Quindi Dobbiamo fare Ah certo 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 Mi sembra più che giusto Certo Certo Ok Sì Sembra molto Un altare Ok Ok Sì Dopodiché ci serve Devi esattamente fare Quello che faccio io Prendi i tronchi d'albero Magici Ok Non me li hai dati Aspetta Ci voglio sabotare Vabbè però è Ok Tieni Ce li ho Ok Devo fare Questa magia Ok Devi seguire esattamente Quello che faccio Ok Aspetta 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 Che sei Ok Sì È un po' difficile Seguirlo Ma puoi farcela Poi è un po' difficile Ok E poi Serve fare Questa cosa qui Per farne Due Proprio lui 1 2 Ok Dobbiamo farlo Ovviamente anche Negli altri due lati Però Ma è un rituale Potentissimo Questo Allora È fantastico Tu non hai idea Ok Ok Quindi anche qui 1 2 Ok Deve essere Esterno di 1 Giusto Sì Esatto Esatto Ok Vado Ok E adesso Di nuovo interno Non lo so Però È giusto È giusto Comunque Per la loro Ok Dicono che È storto È storto? Come hai fatto? No è giusto No anzi Non ho messo Uno sotto qui Ok No è giusto È giusto È giusto Ok È giusto Ragazzi Dove c'è degli occhi Storti Ok Adesso Sì Vedi che qui ci sono Sì Qua dovrebbe Al posto dei tronchi Cosa ci mettiamo? I quattro Blocchi sacri Timings Quanto tempo Ragazzi Quanto tempo Speedrun Pipi Quanto tempo Meno di un secondo Mamma mia Ma sei fortissimo Ok Vedi che qui Dicono che I tronchi Sono storti Ah Eh sì Hai sbagliato Cosa ho sbagliato Capo Eh questi qui Devono andare più indietro Cioè Non è vero Dov'è Dov'è Andata Sono stupido Non riesco a vedere Ah No Ah Vedi Eh sì Devi Ah Eh vedi Ah Ho capito Capo Perché tu l'hai fatto Un blocco più Intento Dobbiamo togliere tutto Sì e mancava un blocco Qui di lato Ecco perché Ecco perché infatti Non tornava Spacchi Spacchi Vai Eh mancava questo qui Ok 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 devi fare questo Ok Ok Basta sparare Ci sono È giusto adesso Sì Sì No E invece la puoi fare È una spida Con te stesso Ce la puoi fare Allora Vi spacchi capo Ci penso io Tranquillo Ho capito Ho imparato I miei errori Ok Mi fido eh Perfetto Ho imparato Basta Spacchi Devo fare Devo Ok Ok Perfetto Ci siamo Ci siamo Adesso Come vedi Al posto di queste Quattro cobblestone Sì Andranno i blocchi supremi Che hai Trattato I quattro blocchi Questo Ok 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 E la struttura Sì Nella sua interezza È completa Manca Una sola cosa Che cazzo è successo Sta funzionando Sta funzionando Cos'è stato? Non lo so Sta funzionando però Come vedi Noi abbiamo messo Un pedo Ma sei in un fulmine bro È il rituale Sta funzionando Allora Scusami Allora Se è realmente Il rituale Allora dovrebbe esserci Un altro fulmine Se permetti Dici Hai visto È stato un caso Ah ok È stato un caso Allora Come vedi Qui c'è Un pedestal Ciò significa Che dobbiamo Metterci qualcosa Su Allora Deve metterci qualcosa sopra Qualcosa sopra Aspetta che mi dà Sì Ok Cosa ci mettiamo sopra Cosa ci mettiamo sopra Un oggetto Ok quale Dalla forma fallica Ma stiamo evocando tua madre Non ho capito No 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 È un pisello Veramente Questa cosa Fidati Quando sei pronto Sì Metti l'oggetto Di stallo E allontanati Fatto Oddio Sta funzionando Aia Aia Sta funzionando Colpito anche te Colpito anche te Bro Oh Paleseti Carota Forse Ma che cazzo sei Questa voce La riconosci L'ho riconosciuta Ma che cazzo sto È proprio lui È lui Che si sa Delle frecce Le frecce addosso Sto stronzo Che cazzo Oh mio dio Giampiero È tornato Funco È stato Giampiero L'ha visto Come un nemico Giustamente Giampiero Adesso Siamo due a uno Buonasera Arturo Quello che suona È il tamburo Oh Allora Fukuro Ma quando è che Cambiamo questa skin Scusami Buonasera Arturo Quello che suona È il tamburo Incredibile Ragazzi Abbiamo evocato Fukuro Cioè Allora Prima era un po' pulita La serie Adesso No Se Stai dicendo Che Fukuro è sporco Faccio sempre Riciclaggio Allora Elena È già finita Elena Grazie mille Per le 25 Ma dov'è andato Quell'altro Dice nulla Non dice Esploso No No Cosa è esploso Sono morto Sono vivo Godo Godi Ragazzi Sono vivo Let's go Ma che è Sto punto Qua grazie mille per le 25 sabone grazie di cuore grazie grazie mille ma coi ragazzi coi non c'è non c'è coi come dirvelo non c'è non c'è ma non c'è perché perché oggi coi deve vedersi il concerto dei red hot chili peppers incredibile tutto ciò si è rotta la farm perché qualcuno ha mandato dei creeper via ragazzi assurdo a quindi poi sarà anche lui sì quando tornerà non so quando tornerà coi sinceramente raga c'è può anche essere ne so che oggi lì dove c'è il red hot chili peppers e scivola sbatte la testa e schioppa chi lo sa mi sembra un po' esagerato tutto può succedere però non vorrei che succedesse ammettiamo che domani il vesuvio fa spara una palla di magma cade proprio sopra la casa di figura in quel caso in quel caso resti da solo non sono sulla casa di futuro ho detto a sola con molte molte possibilità molto capitare ma tutto è possibile lo diceva sempre giovanni mucciaccio allora stone quindi sì quindi sto sistemando una delle ragazzi oggi avremo la compagnia di futuro porterà fortuna o porterà sfortuna chi lo sa chi lo sa e tanto virgi grazie ancora pereteci questa buona c'è calmati vabbè sicuro sicuro c'è un buco qua no vabbè incredibile ah via 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 vi giuro non capisco come fatto ok magmi grazie mille carissimo a me via 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 Non ho ancora Cioè in realtà si però Facciamo fin Ma i dieci terronotti Sono diventati I terron I terrordici Perché come vedi c'è anche una nuova skin Giusto E dov'è questo E' qui la nuova skin L'esemplare immortale Vabbè Incredico Mi sa che l'esemplare immortale è appena morto No In realtà si è morto Però non facciamo Ma dici che è proprio stato sponato Proprio sopra No fallo scendere Fallo scendere Prima o poi scenderà Se esplodono i terrordici ti giuro Ti faccio esplodere casa Ma non Minecraft Aspetta aspetta L'ho baito Fatto Baitato Ce n'hai un arco o qualcosa No Aspetta C'ho lo swiftness Questo qui non Ah Ah giusto Posso fare questo no? Cosa sta Ecco Ecco No 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 Virgi Grazie mille Hai attivato il coso quindi Aspetta Fermo Fermo Non ti puoi avvicinare Figuro cos'è che stai facendo Mi scusi No raga Questo sta tipo Giocando a Splatoon Sta iniziando a mettere i simboli Partenopeici Per conquistare la zona Partenopeici Beh vediamo No Ambo Allora L'esemplare Immortale E' veramente immortale Visto è ancora vivo No ma Eh ma beh Ma ovvio Lui non può morire Che lui non muore mai Detto questo Cosa facciamo Io oggi Ambo Io non mi No non facciamo Un problema Oggi Inizia La vedo un attimo Difficile Non ti mettere lì Sei pazzo Ma tranquillo Se tu fai così Perché questo sale Fatto Io se ti preoccupi Elena Grazie mille È diventata una groviera Sta a base Io non so cosa dire Io non so cosa dire Dimmi Prima di iniziare Anche Dimmi Di fianco Girati La famosissima Verga napoletana Esatto No Fukuro Tieni il piffero Suona Funziona No ragazzi C'è un problema C'è Qua c'è sempre No ragazzi Salve Virgi grazie Ragazzi Oggi non iniziamo Non riusciamo A iniziare Con l'obiettivo Con l'obiettivo della serie Finire tutti gli advance Cioè tutti gli advance Scusatemi Tutti Tutte le quest E fare le robe De la varicia Praticamente Giusto Ambo Esatto Esatto Ecco E oggi noi ci porteremo Molto avanti Vedete Fidatevi Sì sì Ma effettivamente Perché comunque Il buon Fukuro Anche lui È abbastanza esperto Di mod Regà Se la sa Trajardare Vabbè ragazzi Il Fukuro Ha fatto Vabbè Comunque Detto questo Ambo Cosa facciamo oggi Finalmente possiamo Dire cosa facciamo oggi Sì E per la terza live Consecutiva Sì Farmiamo Mia madre Posso conoscerla Potevi conoscerla Effettivamente È vero E me ti sei perso Il fatto che Koe Aveva Ha avuto la possibilità Di incontrare Mia madre Ebbè Si è perso Ma è vero che ti sei fatto La mamma Di Ambo Ok Ah pensavo L'avessi chiamato Non hai internet In Italia E peraltro Come non hai internet In Italia No in Italia non ce l'ha Ce l'ha solo in Svizzera Madonna Oh ma c'è Amico Aspetta La cosa è Perché dovrebbe andare In Italia Se c'ha la Svizzera Quella Abbiamo fatto Storto Non vedere più Allora Come farmi Si va bocciana Ehi Ragazzi So parlare Dobbiamo andare Al mob spawner Allora Scorsa live Abbiamo fatto Il Il coso Come si chiama Non mi ricordo Stasis chamber Ce l'hai? Si ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Vero Ok Ecco Ehm Fatto quello Si Ci serve anche Ti ricordi che abbiamo fatto anche il glifo Del dry Sì Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Anche da qui Si Perfetto Fatti questi progetti Letteralmente Abbiamo Fatto Ok È stato semplicissimo L'ho a posto Dovremmo spawnare Un'altra mamma Ok Ma che lo faremo poi Quante mamme hai? Eh tante Jake Grazie mille C'è stato un momento in cui ce ne sono state due Nelle pretenze E hanno parlato dei fatti loro Non passo spesso di lei ma ce l'ho comunque di sopportarti Grazie mille Jackie Grazie di cuore Ok Allora Ambo faccio tutto Ti dico questa cosa subito Sì Non mi ricordo come si fa Quindi Mossi Ci serve una Mossi cobblestone Va bene Che ci vuole Non sta qua dentro Non ci sta Vabbè Le vines Non ce l'abbiamo Giustamente Ah Ah giustamente Lo rigrazio mille capo Grazie di cuore Ok Lui ovviamente mica è solo Per il Napoli Certo E anche per l'Italia Come vedi Guarda Tre Perché cosa ha fatto il Napoli? Non lo so Cosa Cosa mi sono perso questa volta? Eh Il te Eh beh Scusa Tre Prima ne aveva due Adesso ne ha tre Il Napoli Di vita È lo terzo scudetto Ah E qui Ecco la mamma di Ambo C'è la mamma di Ambo Ma come la mamma di Ambo Eccola Le chiamate c'è Allontananti di questa zona Allontananti di questa zona Via 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 Assoluto Assoluto via Nel tunnel Nel tunnel Da Giampiero Da Giampiero Devi andare a Giampiero No 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 Non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Non mi dico Devi andare a Giampiero Raga ma come mi hai risposto Hai fatto l'offerta Let's go Raga io Io sono un attimo bloccato No vieni qui Vieni qui Ragazzi mi mangia No perché stai andando lì Devi girare Devi andare Non mi prendi Non mi prendi Non mi prendi Ma come la uccidiamo Raga Allora raga Non ci serviva Sponata qui Mannaggia voi Elena grazie mille Veramente Aia No 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 Non è il tunnel Ok ok Fa qualcosa Ok vai 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 E qui E qui E qui D'altare Ammazzala Ammazzala Ah No raga C'ha troppa C'ha troppa vita Mi ha rubato il piccolo No raga Mi ha rubato la spada No raga Ho il signo edificio La spada Inneriti che mi picchia Venga Venga sono buono Ucciso Ucciso Vai Non hai il piccone adesso Ok è morto anche quello col piccone Vai 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 Picchia picchia Raga io un attimo qua sto Eh oh Eh oh Eh oh I miei Dove camminare qua sotto Un attimo Vai non si può muovere da quell'angolo Forca puttana Ci sono Ci sono ci sono ci sono ci sono No 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 Devi stare No 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 Abbiamo volato il piccone Un piccone T'ha rubato il piccone E gigi Ok, dobbiamo tornare fuori, regà Devi tornare nel tunnel Partiamo verso il tunnel, fukuro, fukuro, versi il tunnel Versi il tunnel, versi il tunnel Versi il tunnel, bro Vieni qui No, ma dove cazzo vai? Vieni qua, devi venire Oh, amore, però, le parole, certesamente Dove, oh, diamine vai Dove diamine vai Tattica segreta Tronco Tronco Oddio, l'hai bloccata Bro, il tronco non lo muove Non lo fa alzare Non l'hai capito È sopio che non si alza Napoletano Si è accattato Non può più passare Ghi temo, ghi temo, ghi temo, ghi temo La scimmia ha imparato che deve bloccare i muri Vai, 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 fatto, 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 fatto Non finisce per attaccare Ok Raga Vado a fare mele d'oro Dove va quella Faccio mele d'oro Lui se ne va dai problemi Oddio, questo c'è un piccone di qualcuno Lui scappa via dai problemi Lui scappa via Io sono fuggito, raga Non li affronta Io, raga, fugo dalla pula Fugo dalla finanza Oh, olè Ma sei a Napoli Fugo dalla camorra Allora Tecnica del siciliano Certificato medico Fuga Fuga No, non puoi usare la tattica del certificato medico Non puoi farlo Raga sta scavando Allora Apple Non abbiamo Apple, raga Non abbiamo Apple Ma come non abbiamo Apple Ma tu non ce l'hai l'iPhone Ah, proprio se mi hai risposto Come, vediamo cosa hai detto Eh, vai controlla Tanto io sto affrontando La mia madre Ah, buona Quest'è di famiglia Tocca a te farlo Allora Mi ha scritto Di brutto fratelli Attrazioni di Napoli centrali Abbiamo anche fatto una foto con Maradona Se vuoi te la mando, mando Eh, è vero, è vero Ma chi mi sta attaccando Allora Serve qualcosa per Per le mele Come cacchio faccio Le mele Taglia un albero Ragazzi, questo è esploso? Allora C'abbiamo dei sapling Eh no Eh no, è tipo Abbiamo stati i sapling di spruce Che non ti danno le mele Eh, però siamo sfigati, eh Devo dirtelo, eh Eh Dove, dove Dai, è a metà vita È a metà vita È a metà vita Ancora nessuno è morto Eh, chi è questo? Dov'è? È sopra Ha scavato un tunnel Ha scavato Ha fatto una stanza Ha trovato pure un cartografo Non so come Picchia Aspetta che c'è un napoletano Ok Vai, vai, vai No, raga È bloccata, è bloccata È bloccata Cosa è succedere? Ah, hai visto la foto? Ma sembra tipo una miniatura di YouTube Ragazzi Per l'intento era un po' quello Ragazzi A 1099 punti sub Droppo la foto Ma 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 Qua letteralmente È il classico Fuckboy Che ha appena proprio fatto tua madre Incredibile Ma io stavo malissimo In quella foto Ma C'è l'intensità mistica Che mista C'è uno invisibile C'è uno invisibile Hanno imparato La tecnica Dell'invisibilità Ruba meglio Ho chiamato fuori No, no Cado a mangiare Devo mangiare Come senti C'è un rischio Ci sono anche dei fuochi d'artificio Se ti senti No, no, no Questo no Fuochi d'artificio? Dove? Sì, sì Ascolta per bene Ah, tu ce li hai No, no Non io Non io No, non io Ah, ho capito C'è un pugno Un pugno No, raga C'è un pugno Un picchialo Raga, che cacchè Raga, non mi posso avvicinare No, ti giuro C'è qualcuno C'è qualcuno di invisibile Raga, mi ha rubato una carota Maledetto No, raga No, raga Mi ha spazio C'ha fame Ho un'idea Vai Cosa cazzo gli fa? No, no, no Ha capito Ti penso io Esatto Bravissimo Ti salvo io VQ Ok Ma mi sa che non soffoca Raga No, non soffoca Raga Trasforma le stone adesso Troppo brava Prenca strada Vai, vai, vai Di critico, di critico Insulta No, si ha faiuto l'attacco supremo Ha spaccato tutti i blocchi No, no, raga Ma è troppo forte Oh, è proprio la madre di ambo Eh, si, hai visto? Minchia Oh, è calma Ma guarda questo No, no, no Stai calmo Vai, vai Vai Ah Pugliese No, vabbè, raga L'ha ammazzato da futuro Non ci posso credere Oh Ok Ce l'abbiamo fatta, raga Eh, è stato grazie a un panzerotto pugliese Sì, sì Incredibile Allora, raga Raga Abbiamo sconfitto la madre di ambo Per l'ennesima volta Eh, tanto ormai Però, ambo, ti ho detto che non era importante questa No, perché dobbiamo spawnarla Nella base delle mamme Nel senso Nella boss fight Oh, cazzo Quella dell'altra volta Ambo Fai strada Eh, aspetta prima Dobbiamo fare un ultimo oggetto Ok Dobbiamo fa' Come si fa' sta roba? Non mi ricordo Allora, dobbiamo fa' Un flux plug Ok E un point Un flux point Qualcuno ha preso il mio piccone Alla fine Allora, qua c'è il plug Tieni Ok, dobbiamo fare un point Ok Faccio una cosa Ambo Questi qua Te li droppo Sì, Simon Peccato, peccato 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 Eh sì Ok, andiamo allora a Ambo lì, dai Andiamo, andiamo Un point Un point? Facciamolo Allora, point Flux point Flux point Eccolo qui Servono questi Servo Questo che c'è Ma Ma perché Ma Leo Ender me l'ha tipo Brasato, Ambo Che cosa? Leo Ender L'ho craftato Perché non è nel sistema Quindi Oppure perché C'è dischi pieni? No, no, no E allora Adesso ci sono Sette miliardi di Ok Ok Ti ricordo che Serve la flux Ah, la flux Dust Dobbiamo Smasciarla O facciamo quello Oppure facciamo Con il Metallurgic Infuser Che secondo me Forse Metallurgic Sì, Metallurgic Ce abbiamo Eh, bisogna fare L'Ossidian Dust Dobbiamo Facciamo Facciamo Vai, facciamo un secondo Il Metallurgic E tu fai l'Obsidian Dust Allora Obsidian Eh, per l'Obsidian Dust Però Ma forse ce l'abbiamo, no? No, non ce l'abbiamo L'Obsidian Dust Vabbè, in teoria Se metto Se prendo l'Obsidian Dust Lo metto nel Crusher No Allora Sono bloccato Mi ero bloccato Chi è stato? Simon Dove lo scippo Vai Ok Hai usato? Hai preso la pensione? Ok Buon Buon Simon, ragazzi Ha fatto Ha ricevuto la sub Il regalo L'hai stesa E ha regalato Di nuovo un'altra sub Dai Grazie mille Portatevi dietro gli anelli Che lanciano tutte le frecce Esatto Sì, sì, sì Esatto, esatto Esatto, Sara Allora Torniamo a noi Allora Metallurgic Quindi Obsidian Dust Non c'è Abbiamo un pulverizer No Un enrichment Ah Basta un enrichment Facciamo un enrichment Chamber Fai un enrichment Chamber Che c'ha in testa? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Non lo so Ok, aspetta Aspetta che l'ho quasi fatta Ok Ok, ce l'ho Dove la attacchiamo? Qua Aspetta Ti faccio Un buco Serve il cabetto Vai Ok Obsidian Abbiamo fatto Vai Obsidian Obsidian Metallurgic Infuser Olà E ce l'abbiamo Metti la flux dust E mettono nel Nel sistema Nei cose sotto Nei cose sotto Ok E adesso L'abbiamo infinito Perfetto Ok, ci siamo Ci siamo E ora possiamo fare quindi Il point Perché giustamente Non possiamo portare un cavo Da qui Certo All'inpondo Ok, ce l'ho Energia wireless Ok, perfetto Andiamo Servirebbe una cesta Una cesta Una cesta Però ce l'abbiamo Fuguro vieni Ah, ma Fuguro ce l'ha l'anello Ah, non lo so Sì, dovrebbe avercelo Dai No Come no Uno anelli Vabbè, io mentre vado Raga, mentre vado Tu vai, tu vai Eh, ma la Stormblock 3 Come a me non c'è su Curse Forge Non lo so, raga Fino all'altra volta c'era No, non c'è su Curse Forge Ma c'è su L'FTB Ah, sull'FTB Allora, raga Ma Nova dorme Nova Dovrebbe dormire Per qualche anno Ti servono i Fuel Bella beccio Solo beccio loro L'altro Crivere Ah, sì Tranquillo Eh, ma la bambina di 5 anni Che è in cantina È ancora disponibile Per comprarla Guarda che non ho Nessuna cantina Ok, perché Sono col cazzo Che pagavo qui L'affitto Così poco Mi costava almeno 300 euro in più E seconda cosa No, non Non faccio queste Non faccio queste cose Ok, questo ci Ok Ma dobbiamo andare Oltre land, giusto? Sì, oltre land Ok, ok Raga, andiamo No, raga Non c'è nessuna Roba No, no, no In realtà siamo tutti napoletani Allora, secondo me Se si parte con una buona Cosa Che tu Sei napoletano Ok Sì Hai la community Passata Già su qualche napoletano Praticamente Ti entrano 10 persone al giorno Una di queste è napoletana Perfetto 9 vanno via Rimane la napoletana Quindi alla fine Avrai una community Su tanta napoletana Beh E più una probabilità Ne avrai E più questa probabilità Aumenterà Perché poi Capito che non lo conosce No, è semplicemente Ok, c'è la mela Adoro qui A posto Per mettere il sistema Io sono già arrivato Raga, eh Sì, noi Piano piano ripiano Stiamo generando Una nuova zona Quindi Ok, ok, ok E io Mentre cerco la La stanza La stanza della mommy E mi sa che forse L'ho trovata Ok Ma dove fide la Createcraft L'ho detto inizio live Detto inizio live Ragazzi Domani Avrete Novità Io ci sono Io ci sono, eh Stiamo arrivando Siamo a 2000 Quindi Più o meno Siamo arrivati Ma A fare qualche torcione Per illuminare per bene Qui Puoi fare la torch La mega torch Ah, ah Out of range Non posso Ah, siamo qui lontani Mannaggia Vabbè Olè Comunque raga Dopo abbiamo Delle casse da aprire DCS, eh Abbiamo tipo Undici casse da aprire Più altre Se le andremo a prendere Naturalmente Oh Regà Eh C'è un problema Qui Quale? C'è un zombie Che praticamente Non Cioè È velocissimo E usa Le freccione Ma io non ce l'ho Le nero delle frecce Ah Eh vabbè No Oh Vabbè Matalo 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 Morto Aia Oh Sorry Ok Raga Lo zombie cittava Sì Ok Allora Ambo Vabbè Allora Dobbiamo fare una cosa magica Vai Allora Questo oggetto qui Che tu hai La stasis chain Ma ce l'ho io Sì Ti ho dato tutto io Ok Chi è che mi ha Ah giusto No in pratica Cosa facevamo con questa Ci fermavamo il weeder Certo Sì Ok Così il weeder Non poteva Dobbiamo fare la stessa Identica cosa Ok Così fermiamo Quindi Il mega silverfish Qua sopra Ok Sì E si può farmare Mettigli il point Così Fatto Ok Il network mamma Funzionare Sì Il network mamma Ok Sta andando C'è potenza Ok Testiamo Vediamo se funziona Funziona Sì Ok Adesso dobbiamo spawnare La mamma Così la teniamo lì Ferma Ok E tu c'è tutto Per spawnarlo Giusto Dovrebbe essere tutto qui Sì Uno Due Tre E quattro Dovrebbero essere questi Ok Sono precisi ma Allora dimmi l'ordine di nuovo Mi ha ciucciato Ok sono via Quello viola Strano Tutto A cerchio deve essere l'ultimo Però ma aspetta Ma è appena spawnato Allora Dimmi tutto Primo coso strano bianco Fatto Ok Poi l'altro Fatto Uova Fatto E poi coso viola Fatto Oh eh E me non voglio interromperti Ma lo vuoi del latte No grazie Grazie mille Gentilissimo Ma l'ho fatto io No 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 Non mi interessa Per fuori allontanati No allontanati per favore Allontanati Allontanati Ok è spawnata Ok E come vedi Non ammazzatela E come vedi Lei non si può muovere Perfetto Ed è top come roba Visto che non si può muovere Ok No io non ho sti cosi Mi danno fastidio Ok e adesso Andremo ad usare Il super charm Quello lì Che abbiamo fatto L'altra volta L'altra live Esatto Ti l'ho dato pure No non ce l'ha Mossi Cobblestone Ma la prendiamo Da qualche parte qui Se andate a un dungeon Senza Mossi Cobblestone Mi sa che non c'è Mossi Cobblestone Io Eh beh La craftiamo Si crafta con del Moss E della Cobblestone E facciamo prima Si perchè mi sa che non c'è Raga Cioè Non c'è C'è neanche il dito Tranquilla Ok ok Tranquillo L'ho craftata Giovane Giovane Tranquilla Allora Non devi rompermi il cazzo Ambo poi dammi Una net vision Per favore Eh ho bevuto La boccetta di latte Alla fine L'hai preso L'altro Era imitante Ok Guarda Stanno spavendo i bimbi Sì sì guarda Sotto i blocchi di lì Allora Prendiamo questo Ok Ok Ci clicchi sopra Con il Dry Transform Fatto E guarda la magia Ok Oddio c'è un drigny Adesso Sì Dobbiamo metterci un ender chest Con dei colori specifici Quindi è solo quest'enderset Non altre E lui come vedi La pena La spazza Vabbè Lui Che cosa farà? Tutto apposto raga Col tempo Si Prenderà l'anima della mamma Ok Ci darà i drop Ah Easy E lei ovviamente non morirà Quindi starà qui in eterno Ah ho capito Ok La stai mungendo In pratica Ok Che colore bisogna mettere nel robo? C'è già il colore Ah bianco 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 Quindi ok Bianco Bianco rosso bianco No Bianco 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 Io vedo Ok vabbè Io la vedo bianco rosso bianco Quella che hai in mano tu È bianco rosso bianco È pure questa Ah Va bene Ok Eh me Vorrei aspettare Perché sta morendo Perché sta morendo Perché sta morendo No no Per favore È una cosa veramente brutta Da pensare Perché sta morendo Non lo so Ah è mob grumbling Puoi togliere la game rule Che non me la ricordo Non puoi toglierla Come no Non puoi toglierla Puoi tanto aumentare il limite massimo Chi sei tu? Non mi conosco E via Avete ucciso il cuore No regà Avete ucciso Vabbè che ce l'ha droppato di nuovo Perché è bravo È gentile È onesto Dove che l'ha droppa? Io ce l'ho in mano Io non c'ho parole Io ragazzi Cioè Ok Che faccio Lo devo spawnare qua sopra di nuovo? Non so se funziona In caso dobbiamo fare un'altra mostra Fatto Ok Come risolviamo il problema Piccolini Del ma... Allora devi fare un mob crusher Devi tornare indietro e fare un mob crusher E questo è sì un problema Sono morto Sono bloccato Ok E sì perché Allunga andare Anche se lei c'è più vita Poi la perde C'è Anche se muoiono quelli piccolini sotto Eh dobbiamo per forza fare un mob crusher In pratica facciamo un mob crusher Ma il fratano si è spostato Si è spostato Che sta facendo? Lui vale Ma sta ballando Lui fa la sua roba E poi gli prende l'animo Non so quanto ci voglio per ottenere un drop Però Ok Però vabbè dai Quindi abbiamo una farm Ora di cuori Di silverfish Sì Quindi Dobbiamo risolvere questo problema Non fare con la spada Perché sennò attacchi tutti E quindi Te l'ho detto Dobbiamo fare un mob crusher Aspetta Ma lei li spawna Perché siamo adesso noi vicini Dopo che non Non ce ne sono da targettare Esatto Sì Io andrei via a sto punto Ok Perché lei li spawna appunto Per attaccarci Quindi direi che Regà Sì io Aspetterei un po' Qui per vedere se troppa qualcosa Non funziona No non funziona No No non mi dispiace Eh ma quando tempo ci mette sto cosetto a fare E poi non ho fatto Lui lavora Quando c'ha voglia E pure lui napoletà Quando c'ha voglia Lavora in comune E se mettiamo un orologio Non funziona Non ci avete stato Che non è un blocco È un'identità Che l'hiver Riguarda E allora a sto punto Posso risolvere così Lei non prende danno dalla lava Mettici dalla lava Non ho della lava Questo piccolino Non ho della lava Brody Mannaggia Ma è potentissimo Oh basta Aiaia Allora in teoria Si fermi Regà sono morto Sono morto Sei morto? L L Cioè come sei morto? Beh prendi altro della lava quindi Esatto prendi della lava Porta la lava Grazie Mi dà le night vision per favore Hai ragione Porta la lava per favore Ho la lava Ok Arriva Mi servono di nuovo Gli swift cosi Ok ce l'ho È il coso che si chiamava Fluido No come si chiama Il carburante Per l'anello Fuel 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 Ok ce l'ho Porta la lava Poi serve qualcos'altro Ah faccio anche la mega torcia Sì Fai delle feral lamp Feral lamp Non so se sono difficili Perché non ho mai Vuole santo la glowstone Ok ok Quelle in pratica come funzionano Tu metti terra o la porta Ma non c'abbiamo la glowstone Fratelli Come non abbiamo la glowstone Neanche il blocco Controllo No Non c'abbiamo la glowstone Allora usa La Non posso fare altre Eh fai la mega torce Megatorce Toglie tutto La mega torce La mega torce Guarda grande grande torce Grande mega torce Toglie tutto I mob in giro Eh quella che fa torce Ah è la torce Guarda mega torce Megatorce Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Sto arrivando Raga arriva 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 Una ne serviva Ne ho fatta ventidue Raga arrivo Una ne serviva Ne ho fatta ventidue Ventidue sono meglio di uno Sicuro Hai ragione Ecco Quanto sia più grande Sì 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 È gigante Arriva arrivo Comunque ragazzi Guardate Quanto il FOV Dà il senso di velocità Così Siamo belli veloci Così sembra che Siamo più lenti Guardate Sembro lentissimo Ora E invece no Che roba strana Il FOV Andiamo andiamo Sto arrivando raga Ok dopo questo Ambo cose che Dobbiamo fare Fatto questo Possiamo iniziare A pensare Ok Mi piace pensare Sì 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 Quindi ragazzi Dopo questo Praticamente Vi mostreremo Quali sono Le sfide finali Per completare Questa serie Perché adesso Abbiamo le farme Necessarie Per fare Tutto Chi è cazzato Quindi È stato il creeper Ok ok Mi fido Ma hai detto creeper Cosa cazzo si spari È il mio anello magico E mi fa volare No è la creative Ah Cioè l'increative No era fungo Non conosco Ah ok Ci sono Ci sono Ci sono Ma hai preso la lava Sì Bra Sì ma tu lavori O no Eccomi ragazzi Sono tornato Olè Allora devi mettere la lava Al centro Omega torcia Boom Ok Ah devi mettere la lava al centro Oddio sono dissi Oddio benedetto No No Eh raga Eh raga Raga Non la fa prendere Non la fa Non la fa Non la fa prendere Raga Non te la fa Preso Un pistello Ok la presa Fugura Presa Fuguro Però è stato fatto anche il resto Mi sa Ah beh si cazzo Non serve il resto Allora Serve solo la lava Su quel coso Qua Metti qua Fugura la lava Ti ho pensato c'è il blocco Ok Ok E non prende fuoco Abbiamo risolto il problema Perfetto ragazzi Problem solved Eh no dobbiamo Eh c'è questo qui anche Ahia porca cazzo Vabbè ma si dai Non sono su blocco Quindi No il problema è che Ne spona altri di superpotenti Quindi dobbiamo risolvere Ok fatto 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 Visto ragazzi Alla fine non era un problema Ve l'ho detto Non era assolutamente un problema Lui ha fatto Ha fatto Ha fatto Cuore C'è Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo E quindi abbiamo una farm Di cuorecini Ok Perfetto Ottimo 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 Non so se Questa zona sia chancata Chancroader Della junk loading Ok Fai un junk load Cos'è questa cosa? Cosa? Tieni tu Oddio Un regalo Ahia mi sono dicendo Bravo muncolino Bravo Bravo F3 Non era H Era G Sì Ovviamente siamo riusciti a farli In due junk diversi Spero funzioni Oddio oddio è matto Lui gira Lui gira E lui è matto Guarda Se lavorare Era la decisione migliore Vabbè uno ne ha fatto comunque Tanto non Non ce ne serviranno Eh niente Ce ne serviranno tipo 16 O 17 Quindi Io sto qui ragazzi Con quando non ho finito Di girare Lui gli fa Vabbè ma prima o poi Gli smetterà Deve danzare Eccolo E E E Ok ha finito Possiamo andare Andiamo Ok Let's go Ok vamos Vamos Via 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 Ma tu non c'hai quella Quella Porta portale No L'abbiamo persa Va bene Torniamo a casa Ragazzi Prima missione di oggi Fatta Farm Di madre Di ambo Fatta Letto Mi siamo perso No Non so dove Mi chiamare Fuguro Figurati io Eh Come fa Ragazzo Fatto Ok Andiamo 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 Come mi chiamo io ragazzi Realmente Giuseppe Arturo Marco Ragazzi Praticamente Sapete come siamo Noi siciliani Bisogna mettere i nomi Di tutti i parenti No no Ma che salvatore Ma mi pare Non mi che Ha un nome così brutto No per favore Ma va Ma va Ma che dite Io Ma va Posso io Avere un nome così Ma va Incredibile Dicono in chat Johnny Johnny Ebbene Mi avete sgamato ragazzi Mi avete sgamato Mi chiamo proprio io Sono io Gianni Proprio io So dove abiti Johnny So dove abiti Salvatore Anche io so dove abito Tranquillo Grazie mille Ebbè È nato Lorenzo Come nome Comunque Immagina Il nome Lorenzo Ma dovresti invitare Da minecraft Adesso E ti chiamassi Lorenzo Esatto Mamma mia E che cazzo Nome di merda Lorenzo Per favore Raga C'è un problema Perché Pelo di scheletri qua dentro Aiuto Com'è possibile bro Non lo so ragazzi Aiuto Beh la stai Mi metto come stai carissimo Ah perché non abbiamo Eh giustamente Ha fatto saltare le torce La mamma E allora Omega torcia Omega torcia Picchialo Ok 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 Fatto Fatto Tutto a posto Ambo Tutto sotto controllo Stermi Grazie mille Carissimo Grazie mille Più tardi Stermi Apriamo le casse Della scorsa live Vedi eh Ok Ok Ci siamo Ma il tempo Cosa Ha acquittato Eh Me ne ho fatto Ah proprio Basta Sì 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 Ha acquittato dalla vita Capito Ok ok Basta così Eh Il S sente Mi ricordo Ah sì Giusto Ehm Mettutti un attimo Questo Lo metterei lontano Da qui Sì Ma va Ma ti pare Oggi heat chill È la giornata La fine Ok Come vedi Dove sei Oggi è chill Oggi è chill Oggi è un po' chill la giornata Stermi grazie ai 1500 bit Sto assolutamente facendo me Allora Allora Io ragazzi lo apro Io sono pazzo Io lo apro Io lo apro Stermi chi lo deve aprire tra noi tre? Io, Fukuro o Ambo? Scegliete Avete, anzi, scegliere Stermi Te, io Lo apro Io vado Omega Torcia Eh? Non lo so Ambo, ma tu ringrazia Io ringrazio Io ringrazio E' andata benissimo Ragazzi Va bene La Omega Torcia Ci ha salvato le chiappe Esatto Allora, visto che in questa serie C'è una mancanza di lavandino Sì? La Mega Torcia Sarà il nostro lavandino Va bene Va bene Ha senso Ok Il lavandino era Oh no Oh no GG Ma che dire ragazzi Poteva andare peggio Poteva andare Poteva andare Assolutamente peggio Ambo Ok? Poteva andare Assolutamente peggio Ecco Quindi Ambo Non ti lamenta Non ti lamentare Ringrazia Chiamato tutto per il meglio Eh Ringrazio Ti giuro Non parlo Non c'è bisogno Che dici Assolutamente nulla Stermi Grazie mille Per i 2500 bitarelli Stermi Grazie mille Stermi Se tu Giochi a Minecraft Java Ti metterò Ora nella lista Dei beta tester Per entrare Prima nel vanilla Per testare Ah pensavo Il tuo account Per ringraziarti Per ringraziarti Tutto Il giorno dopo Contattarò a Mojang E ti faccio bannare Ecco grazie Tranquillo Ho Ho i contatti Tranquillo C'è pure questo Mi avete fatto saltare Non ti preoccupare Ragazzi Mi fate arrabbiare Che l'account Di Minecraft Finisce subito In mano A A qualcuno Dall'altra parte Del mondo Ok Poi vediamo Come fate A fare le bedurse Sui pixel Naturalmente Non è una minaccia È soltanto Un avvertimento Ecco Tipo come quando Vi registrate Su un sito C'è scritto Che accettate I termini e condizioni Ecco Ecco Minchia mi ha preso un attimo Ma non so perché Ho flashato Un'altra cosa Simone e Napoli È andato un attimo Un po' Lo scudetto Il terzo scudetto Fuguro Bisogna Fuguro Bisogna Ribildarlo Ecco Calma Fuguro Bisogna Ribildarlo I terroirici Stanno Stanno bene I terroirici Stanno bene Vediamo L'immortale Ragazzi L'immortale È ancora vivo L'esemplare Immortale Lui Incredibile Dura a morire Non ti devi permettere Non mi toccare Ok Scusate raga Scusate Fuguro Che stai facendo Con Spedicoio Non fa nulla Vuoi dare una mano Eh no Un secondo Non è finito Eh C'è un Un secondo Un problema Ma logistico È proprio veloce Che è successo Sì Perché Fuguro Non parla Perché Poi Capisci Raga Il vesuio L'ho detto all'inizio Ha fatto Casa di Fuguro È andata Piccolo problema E niente È andato Facciamo che Non ne parliamo Ambo Prossimo rituale Che facciamo Che vogliamo coste Coste mi sembra Un po' troppo Adesso Siamo un po' troppo Quindi Non Direi di no Niente raga Dai Evochiamo Evochiamo Angelus Dai Angelus Ok ok Sì Qualcuno dirà Vai Sì Qualcuno dirà Ciao Grazie mille Per i 7 euro Grazie mille Non è partito No Questo qui Sono robe in più Regà Questo qui Non ce l'abbiamo Nelle pretenze Perché È una roba nuova Di twitch E ancora non è stata Integrata La roba dei messaggini Così Poi penso Che verrà aggiornato Tutto E quindi Ne deve integrare Naturalmente Ma è una roba nuova Questa qui Praticamente ragazzi Se voi donate Cioè Con In chat In base a quanto Pagate Il vostro messaggio Rimane pinnato In alto in chat Quindi Che ne so Se uno Da Un euro Il suo messaggio Rimane per un minuto Se uno da 10 10 minuti Quello è il senso Un pochettino Si chiama Hype chat È una nuova funzione Di twitch Basta cliccare In chat C'è proprio Il simboletto Di un fulmina Se non sbaglio Sì Fulminino Ok Ma 3 4 Ma Mi stavo guardando L'iscord Io stavo a fare 1 2 3 4 E scomparse le band Ah Via questo Prendi questo Maestro No la tromba No tu col trombone Ecco Ok Questo qua col E il tamburos Fatto Pulito Ragazzi Siete 100 beats termi Un piccolo Qua Tra poco Potrebbe essere risolto Ah ok Ha a che fare Con Ciro Si 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 No non è Però Ragazzi sapete che Il cani di Fukuro Si chiama veramente Ciro Ah e comunque Ragazzi mancano 31 punti sub Per farvi vedere La foto Di Ambo Fukuro E Koe Con Maradona Ragazzi Fidatevi Ne vale la pena Anche se Sei quello più normale Perché la faccia di Koe Sembra proprio appiccicata Sopra un'altra faccia Fukuro letteralmente Ha la faccia da Uno Che praticamente Dice Aiuto Tu sei proprio L'unico Che Normale Ok 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 Allora C'è stato un piccolo problema Che succede Abbiamo metà degli oggetti Perché Tre cose Sono esplose Ogni volta sempre così finisce Ogni volta sempre così finisce Non c'è proprio Cosa che tenga No no Scusa Non volevo Che cos'era La cosa francese No non volevo Usare la La tuba francese Francese La francese Che che era frangio Ok Vabbè Mentre aspettiamo Fukuro Mentre aspettiamo Fukuro È arrivato il momento Di Vedere Cosa dobbiamo fare Per finire il pack Mo finire Sì Siamo Siamo a metà Ma Allora Oh Oh Vabbè però questo è un 50 e 50 Regà Non è che poi Ma ovvio che lo vinco io Giusto Ciao Ambo Non in questo senso Vincere Ah che cosa bella Easy raga Easy Easy Semplicissimo L'ho detto Detto fatto Regà T'aspetto Ambo T'aspetto Ah Dio mio Dio mio Va bene Ah ma cosa dobbiamo craftare Quindi adesso Più che altro Dobbiamo Semplicemente Vedere Tutti i passaggi Che dobbiamo fare Perché craftarlo È un conto Allora aspetta Fammi un attimo le quest Misc Abbiamo fatto Ah ho fatto la mega torcia Allora È Densitas infinita Giusto Densitas infinita Mannaggia La densitas infinita Fatto Fatto Rangulo Tutto a posto Ok Tunk Grazie mille estermi Non abbiamo più L'elevator Vediamo se Si è salvato quello Si è salvato Ok Allora Cerchiamo attivo La densitas infinitas Allora Questo è fatto Allora Neutronium Ok Compresso Dobbiamo metterci Dentro la source Gem Eh allora Oltre a quello No amore Non si può fare La source gem No si si Non c'è più una roba Per la Suss gem No Io avevo fatto La farm Ed è saltata Ma dov'è che stava La farm Quindi Eh sai guarda Giusto il blocco Che conteneva Le source gem È saltato Ah beh Questa continua A farmarle tanto No Eh no Perché devo Ricostruirla Ah cosa ne manca Eh il coso che dai lapislazzuli È questo che prende Ah ho capito Ho capito Qui invece No qui mentre è tutto ok Qui no no Lì ovviamente è tutto a posto Eccolo È tornato a futuro raga Perfetto Allora Eh quindi Ammonito Dobbiamo soltanto Non lo so Dimmi tu come possiamo andare avanti Ora come ora Eh allora Cosa dobbiamo fare Controlliamo Cosa ci serve Controlliamo l'obiettivo finale Ah obiettivo finale Per ognuno di noi Dove sta adesso l'obiettivo Mi do un attimo lontano Scusami Non ce la faremo oggi L'obiettivo finale è anche peggiorato In questo momento Perché siamo diventati quattro Allora scusami eh Allora Quest L'obiettivo finale qual è Eh se vai in The ultimate armor The ultimate armor Ok E facciamo spada e piccone Ok facciamo che iniziamo Tutto col piccone Per esempio Ok Piccone Prendiamo il piccone Come vedi Si apre un mondo di Infinità Ma che cavolo è sta roba raga Esatto Ciao mamma È arrivato Allora Allora Ho testato che Se mi buttano fuori Con la penitenza Non rientro Non rientro Chiudo Ma Infinity ingot È la cosa importante Che dobbiamo fare È l'infinity ingot Infinity ingot Quindi L'infinity ingot Serve Neutronium Neutronium Ingot Vista il matrix Che ha un valore di mc Quindi ne abbiamo infiniti In pratica Ok Neutronium si trova qui Ah qui ce l'abbiamo però Sì ne abbiamo 470 Vabbè E Gli infinity catalyst Infinity catalyst Ok Che se Oh Oh mio dio Regà Tutte le singularity Del Del pacchetto E altri oggetti Stupidi Io ti dico Mi devi dire Allora tu mi devi dire La cosa Iniziamo a farmare Ambo Perché io mi sono già perso Esatto Dobbiamo iniziare a fare Le singularity più semplici Ok Le singularity più semplici Quali sono Tipo Le singularity più semplici Il nether star Il nether star Dove devi dire singularity Scusami Quelle sotto Quelle là A palla Ah Sono tutte diverse Tutte diverse Sì sono tutte diverse Quindi Neutronium compresso È bagnato Dovrebbe essere così Ah Ho capito Ma le più semplici Tipo Nether star Quella di nether star Singularity Nether star Eccola qui Singularity Facciamo quella Iniziamo da quella Ok Ma qui dobbiamo fare Una stanza a parte Per Ambo Scusami Assolutamente C'è bisogno E allora Aspetta che Se permetti Io Vai Procedo qui A stanzificare Stanzare Sì sì Allora raga Qua faccio adesso La stanza per Le singularity Ok 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 direi che ci siamo Ok Allora Cosa ci serve Per fare La nether star Singularity Allora Vabbè Servono le nether star E qui così là Neutronium compressor Ok Ah ma aspetta Ma dove finì Il mio Crafter Eccolo qui Allora Serve questo Entri Neutronium compressor Ok Stavo leggendo Stavo leggendo Le nome delle singularity Ho sparafreshato Una ucraina Singularity Vabbè 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 Non ci pensiamo Allora La nether star Singularity Quindi dobbiamo fare Un neutronium compressor Che in pratica Cosa fa Prende le nether star E le comprime In una singularity Sì Dobbiamo craftare Questa roba Quindi l'extreme crafter E io già Me lo salvo qui Di lato Esatto Allora Ok Serve quindi Il mega crafter Crafting table Ce l'abbiamo 300.000 Perfetto E mettiamo nella stanza apposita Perché Certo È un po' storta Ma è la stanza Allora Serve iron block E neutronium ingot Incomincia a prenderli Vai Mi piace il jet Ok ce l'ho Comunque sei un minion Allora Iron Non c'abbia Regà Dov'è la Siamo L'iron Porca Cazzo E Si è perso l'iron E se è perso l'iron Quindi dobbiamo Trovare un iron ingot E metterlo Allora La redstone Voi fate tutto Intanto Io continuo a craftare Tranquilli Allora Dobbiamo trovare Un iron ingot Da qualche parte Crystal matrix Ci sarà Da qualche parte Pure i diamanti Regà Non ci sono Vabbè Non ci sono più blocchi Qua c'è un bel blocco di iron Guarda E ce l'abbiamo No non c'è poco niente Aspetta I blocchi davanti ci sono Abbiamo l'irona del Napoli Vero È vero Il Napoli che ci salva sempre Qui ho trovato Un blocco di iron Quindi questi cazzi Ce l'abbiamo anche questo Dove non portarlo dentro No Devi Devi scendere giù E tu non ce l'hai Ok Aspetta Arrivo a casa E me lo dai Ok In pratica cosa fai Scendi giù C'è del ferro Quindi L'ho messo io Allora Allora Non c'è neanche lo smeraldo Neanche l'oro C'è sempre Quella cosa dello scudetto Quindi Ok Allora Iron Non ce l'abbiamo Portami L'iron C'è l'oro Sì C'è il quarzo Ok Dobbiamo fare anche Questi Gli hopper Il blocco di quarzo Non lo vuoi decrastare No Quindi Oh Non c'è Mica Pensavo fosse un creeper Mi sono spaventato Però almeno adesso abbiamo oro Smeraldi Diamanti e ferro Quindi Tac 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 Io già sto Piottando qua Raga tranquilli Sto già facendo Il primo compressor Bravo Ok Tac Tac Il neutronium Dobbiamo farlo No Ce l'abbiamo lì Ce l'abbiamo? Sì 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 Non è collegato Perché Perché non l'ho collegato Dove l'abbiamo? Qua Ok Ok Dobbiamo fare gli hopper Poi miglioreremo la farm Che serve la chest Allora cosa manca? Non penso Cioè Di materiali importanti Servono tutti i lingotti Però No Dico per cartare il blocco Il crystal matrix L'abbiamo? Sì 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 Non c'abbiamo legno Regà Manca il legno Manca il legno Non abbiamo neanche I subbing Non lo so No non abbiamo nemmeno I subbing Vabbè Eh vabbè Abbiamo una magione Quindi Buono Stermi Buono Buono Siamo il logo del disco È vero Regà È vero Il blocco ce l'abbiamo Niente Servono tanto I crystal matrix Ingot Ah non ce l'abbiamo Allora Eh sono Né del star Diamanti E nederite Eh non Non me lo Non abbiamo Diamanti ce l'abbiamo Né del star sì Non mi fa craftare nulla Regà aspetto Perché non me lo fa craftare Niente me lo fa craftare Perché mi sa che Non è il diamante Direttamente aspetto Che è il diamante Ah ok Ora sì Ora ce l'ho Ora ce l'ho Ok Ok Craftai già posto Ma eh Mi sa Ragazzi Non c'abbiamo Le neder star Come no Sì infatti mi sa che No No All good Ce l'avevo Nella borsa Ok Sistema Crafty E quindi Vabbè Abbiamo anche Adesso Ho messo anche Il log Disposed La maggiore Anche questo Ce l'abbiamo E quindi Possiamo andare A mettere su Questi lingotti E I blocchi Io per già Li fatti a me Eh no Mi serve il legno Eh te l'ho fatto Te l'ho messo Te l'ho messo Nel system Non ce l'abbiamo Dobbiamo avere tutto Ok Buono Qua è tutto Ecco lì Adesso te lo devo fare Mettere Starmi Ah ma poi vabbè Ce li avevamo qui I blocchi di diamante E qui abbiamo La nederite sopra Quindi non è problema Ok Ragazzi ho fatto il primo Il primo Neutronium Compressor Buono Ne serviranno tipo Serve la corrente Per questo roba No 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 Non serve Va gratis Fatto Ce l'ho messo Ok Adesso Cosa dobbiamo fa Allora Noi facciamo Una su duecento Ok Vabbè scusi Semplicemente non serve il coso Il private nome Che si chiamava Le MC Link Tu cosa fai Prendi le MC Prendi un cavo Link è detto Non c'è Link Non c'è Ce l'abbiamo in giro C'è in giro Rimettilo Rimettilo Facciamo così Ne mancano cinquanta È vero Cavolo Sì sì no Regà con calma Vabbè in realtà Regà si fanno adesso Tutte facili Ce ne faccio un botto Di questi Vabbè Vorrei messi Sto Sto Messo nel sistema Messo nel sistema Allora posso Aspetta aspetta Aspettate che Crafto Ne crafto un poco Di questi A sto punto Sì Ti dico quanti ne servono Non ne crafterò Non ne crafterò Subito tantissimi Raga però 23 Servono Mi fai altri Crystal matrix Per favore Dammi ne uno Lo metto nel sistema E dammi ne uno Vado Corro Mettici anche I blocchi di iron Per favore I blocchi di iron Ok Poi Questo qui Basta fare Finalmente c'è anche I blocchi Tacc Oppure quelli di redstone Ok Ma ne faccio Allora ne faccio per ora 8 va bene Quelle che abbiamo La red Sì sì Quelle che abbiamo Il blocco di redstone Ma non abbiamo la red Sì infatti Va bene C'è il cavetto C'è lo Serve l'MC link Che è qua dentro Dove soffrire Gli altri miei hopper Mi metti gli hopper per favore Tenghi 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 Ok Che servono hopper Ok Blocchi di ferro E niente raga Adesso praticamente è tutto Full crafting Quelli di ferro c'è nello smestamento adesso Vai Tutto È pronto tutto È tutto pronto Sbagliato No No Cosa hai fatto Cosa fa Danno Ho fatto un attimo danno Ah vabbè Tac tac Classico Io ho l'inventario pieno Come al solito Questo qui Questo qui Questo va qui Questo qui Questo qui E mi mancano Adesso I matrix Mamma mia Ma non si può automatizzare Sto robo No Oddio non mi ricordo Aspetta Extreme No non c'è in questa versione Mi dispiace Ma poi che l'hai fatto 23 volte E poi hai fatto Sarà un po' Brutto fare tutti i lingotti Ma quello è un po' Vabbè Vabbè L'uranite L'abbiamo Giusto Vabbè Intanto guarda Ne ho 8 Ambo ne ho 8 Non è nello smestamento Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ok Allora Vediamo come funziona Ce l'hai una netherstar Una netherstar Prendo subito Netherstar Ce l'abbiamo Ok Mettila nell'MC link Non posso aprirlo Non posso aprirlo Giustamente Non so Prendo Messo Ok ce ne sono 7 miliardi di cose Ok Sta andando Sta andando Sta andando Ah quindi Ne ha bisogno 2666 Per farci Una singularity Scusami È un po' lento Scusami Ambo Ambo Io sto vedendo che In realtà Sai che Stiamo perdendo MC Tu stai perdendo MC Perché Vieni Ti sistemo La faccenda Mamma Ok 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 Mettila Devo metterlo qua Ah va bene Adesso Io prendo gli MC Tranquillo A posto Va tutto bene Adesso Raga Vabbè Già 4 singularity Raga Cioè Va benissimo Come roba Va benissimo Ok Cosa faccio adesso Ad altro Aspetta Facciamo ne altri Singularity L'Uranito No raga Ho premuto F11 Andando tipo Per spazio Possiamo fa Singularity L'Uranito Sì Ma è poca Dobbiamo farlo Far Ok E Oddio Ti va di fare Le rotaie del treno Della crate Esatto C'è quello Delle rotaie del treno Della crate C'è quello Delle rotaie del treno Train track Train track Non so se hanno Un valore di MC Però No No ma è una cazzata Da fare Ambo Dei mettere Metti le stone slab E Le zinc nugget Nel sistema Quello lì Ok Abbiamo lo zinco Ok Ambo serve però Anche un motore Corrente eccetera Naturalmente Non c'è problema Non abbiamo Non abbiamo uno zinco Allora qua cosa abbiamo Deployer ce l'abbiamo? No Allora Deployer Tu stai preparando la pink matter No magenta si Però me la devi mettere tu dentro Eh ma Ma qui non abbiamo Minchia Ambo Non abbiamo più il blast Nel niente Eh Non c'abbiamo più niente Casing Ambo Ok Minchia Aspetta Allora Per questo io stavo a dire Non ne possiamo fa molte Perché dovremmo risistere Ma tutto il sistema Certo Questi dentro Ambo Un attimo raga Non ci sono Sono dei blocchi Fatto 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 Vai 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 Grappa l'ultimo è sti cazzo Che è successo? Io ho aperto il messaggio Della foto vostra Ma poi io ho visto Il Il messaggio sotto Di Di coe Quale cosa ha scritto? Allora È vero È vero Sì vabbè È bellissimo Allora Allora E Tano Ciao Tano Ti sto aspettando sul Discord Comunque Ciao Tano Ti seguo sempre sotto casa Grande Tano Raga tra poco Andiamo a deranker Su Counter Strike Comunque Ti ridò a sto punto tutti Allora Mettine un altro E ne facciamo un altro Bravo Proprio dove non c'è il cavo Facciamo questo Questa qui Vale Un milione e mezzo di MC La metto qua dentro La metti Fa così Ok Tac Mette questo Ne servono 1700 Non abbiamo cactus E questo ce l'abbiamo Ok Allora Se dobbiamo fare la roba Delle rotaie È una cavolata Ok Noambo c'è un problema Stai scendendo Sto scendendo Di 514 617 milioni È attaccato Quello del Magenta Meter Il Magenta Sì Ha attaccato il Magenta Quanti MC hai? 1.13 trilioni Non ti finiranno mai In caso facciamo una farm di MC Anzi Visto che c'è questo calo Facciamo una farm di MC Bella potente Ok va bene Sì dobbiamo potenziare un attimo Adesso ragazzi vi faccio vedere Allora Sposto la camera a destra Vedete quel numeretto? Quelli sono gli MC che ho Adesso siamo in calo Di 514 milioni E sta scendendo Relativamente veloce Ambo Vedi eh Non ti preoccupo Allora Dobbiamo fa Sarà una cosa molto lunga E pallosa Ma la dobbiamo fare Ok Dobbiamo fa I Power Flower Allora Power Ok Stavo dicendo Decidi il livello Di cui Noi Ti dico Ok possiamo fare anche il finale Ma tanto devo Cioè serve l'ira di Dio Prima Quindi alla fine Basta farmi un botto Di quelli iniziali E così via no? Esatto Per Ambo Lo Chance Cube Gigi ragazzi Abbiamo perso la serie Per Ambo Azz Aspetta aspetta Faccio C'è qualcosa Della situazione Allora Raga Io già sono a 1.08 Trilioni Scende molto velocemente Grazie mille Favetta per i 15 Grazie mille Fermiamo la farm No tu lascia Tu lascia Voglio l'ansia Sì ma Dobbiamo Ambo apri Vado Ma chi sono questi? No 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 Rega 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 Ma noi dobbiamo lavorare Sì Sì vabbè Ma qua stiamo lavorando Allora hai fatto Ambo che Se mi dai Una mano E Ecco L'avremo Tutti gli oggetti Che servono Si fanno Quei cosi Ok esatto Oh Animaletto Nooo Cosa è successo? Fukuro Non farò Sulla polla Ti prendo Fukuro Stronzo Non l'ho fatto Non l'ho fatto Poi Che mi spavano Hai giuntato Un animaletto No Non l'ho fatto Non l'ho fatto Non era molto No raga Vendetta Vendetta? Non giuro Allora Vendetta vera Continua Allora Ambo Io inizio Con Crafting Allora Ok questo lo possiamo fare No non è vero Mammo Mancano tutti gli oggetti Quindi cos'è che possiamo fare Non possiamo fare niente Che cosa ti manca? Scusa La vita Che cosa ti manca? Allora aspetta Aspetta Sto cercando di capire un attimo Cosa Ti ricordo che Puoi metterli nel sistema Ogni volta Sotto Così li duplichi Ok Allora mi devo mettere Per forza qui Ambo Devi trovare il tuo Non so quale sia Trovato Ok Serve poi Sali su per favore Io Eh lo so Ma non posso No 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 Rega Eh vabbè Io lo sapevo Meno male che ho detto Sali su Meno male che ho detto Sali su Ciao mamma Dove sono? Eh dove sei? No No ragazzi Favetta Grazie mille Dove la mia tomba Rega Meglio preveni Che cura Ragazzi Amici Non devo dare Ecco la Ma non abbiamo perso nulla Abbiamo perso Per l'ennesima volta L'elevator Vabbè Quello è l'altro discorso Va bene Allora Ragazzi È una corsa Contrattempo Perché sta scendendo Vertiginosamente Quel numero A quanto sei? A quanto sei? 998G 88 88 Allora Serve questo Questo non posso farlo Perché serve Rega Stiamo senza glowstone Ora Ora c'ho la glowstone Non è vero Ok Dove mettere la giuna del sistema Vai 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 Del raccoglitore Ok Risalgo Ci sono Ok Questo è fatto È saltato Va bene L'autocrafting Tanto non serviva un cazzo Ok Allora Mi hai detto per i miei animaletti Fukuro è colpa tua Ti rendi conto Si è vendicata Si è vendicata Perché gli ha ammazzato L'animaletto In tempo record Ma perché Dari Con me Sono il miglior uccisore Del mondo Perdò Sono un bellissimo sicario Uccisore Uccisore Ambo Non mi dà la glowstone I blocchi Anche se li ho messi Oh questo è completato Abbono Pentola Io ho messo giù i blocchi Non me li dà Non è che si è rotto Non sono collegati No L'ho messo proprio Nell'unico No in realtà ci ho messo Questo cazzo ho toccato Aspetta Raga qualcuno mette Della cobblestone Ho messo Ho messo Ho messo la cobblestone Fatto 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 Ci siamo Ci siamo Allora Usate infinity wand Flo Come si chiama Come si chiama Flowers Power 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 Ok E questo ce l'abbiamo E lo si può andare A ficcare sotto Di nuovo E tutto il sistema ragazzi A scalare Ce la possiamo fare Dentro Via 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 Sale Mangia carota 955 Ce la facciamo Ce la facciamo Ok Ora Questo Fatto Ce l'abbiamo Dentro Ok Pam Su Dai Su Ok L'energy Energy MC link Manca quello Ambo Tu ci hai detto che ce l'hai Energy Quello no Quello di prima Devi farlo Devi farlo al volo Ce lo faccio No no Questo ragazzi è un grosso problema Questo è un grosso problema ragazzi Io scappo Va benissimo C'è un problema Ma nessuno ha visto niente È un problema No no Ragazzi è a Rio Nessuno ha visto niente Nessuno ha visto Non l'ho fatto a posto Nessuno ha visto Fuguro Ti giuro Nessuno ha visto Ragazzi Dove è finita la pentola Nessuno ha visto Ragazzi Dove è finita la pentola Raga Si è messa in mezzo Ho metto Ci devo i creeper No Fuguro Fuguro Lo vuoi capire che Lo vuoi capire che Finisce malissimo Fuguro Mannaggia a te Fuguro Fuguro Porca la puttana Fuguro Penso da te Non è colpa mia Ok Questo nel sistema Giù Ecco dentro L'ho salito Tieni Allora Il primo fatto Ambo Ok Bisogna fare quelli dopo Questo Ok Poi mi sa che serve Questo Perché tanto è tutto a scalare Alla fine Serve questo Allora No fu quello di avere L'inventario libero Quindi ti sto droppando Un paio di roba Perché se no Non ce la faccio mettere Tutti gli oggetti Ok Vai Bene così Ok Cavolo ho usato Quello che non Ok Perché anche questi qui Sotto è a scalare Mannaggia Ringraziamo che non esiste più La penitenza del futuro Altrimenti Raffini Esatto Sì esatto Mamma sono bloccato Ma si blocca Dove si è blocca Non ho più cosa per volare Di qua Di qua Ok raga Sono 864 Ma datemi una mano Perché fate freddo tutto a me Beh Una persona può craftare E tu ringominci a craftare Io sto facendo i blocchi Tu craftai proprio i flower E li metti nel sistema Io non posso fare niente Perché non ho Non posso mettere cose nel sistema Allora ti posso craftare questo E te lo metto nel sistema Poi Questo dentro Ti sto a fare tutti quelli dopo Guarda Magenta fatto Pink Pink serve la pink Serve la pink cosa Questa qui Matter Ok Ok la metto dentro nel sistema L'ha messa già messa tu Sì sì Messo Messo C'è pure la purple Guarda sono pure Ok perfetto Sono la purple Ti faccio pure la blue Mi sento Pink fatto Mi sento avanti Purple 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 Ho già messo la purple Ma ti ho fatto Tutti quelli L'ha fatti di glowstone Ok Fino alla violet Quindi adesso Se tipo Io volessi fare Tipo già Questo Vuole la yellow Che vuole Lime Puoi craftare Direttamente i fiori Vai Fai i fiori Tutti i fiori A scala Ah sì 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 Non tutti quanti Però Fino alla violet Puoi fare Il flower Fino alla violet Non farne uno Non farne uno Stuck Che consumi tutto Scusami capo Hai ragione Sono confuso Aspetta Allora Tengo uno rosso Ok E faccio questo Poi faccio il pink Che già sono 16.000 Faccio il purple Sono 65.000 Tac Faccio adesso il violet E sono quasi 300.000 Ok Se adesso Il blu antimatter Dobbiamo fare Ho fatto il blu anche Ti devo fare questo qui Ok aspetta Faccio Ok ho fatto i due blocchi del blu Oh no Sali su Sali su Sali su Sali su No raga Le chicche di chi Le ho già vissi io Quelli di blu No Se becca me è finita Raga Ha beccato coe Ha beccato coe Ha beccato coe Ha beccato coe Quindi in realtà sarebbe Fugu Io Non lo fare 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 Che deve Deve fa casini Ah va bene Ok Va bene Non lo faccio Ok mi sa che alla Ciano Ci dobbiamo fermare Costa troppo Ciano Ah in realtà no In realtà no Ok Un miliardo Costa Un miliardo No ma aspetta Lo sai che Forse Cioè Riesco tranquillamente A fare tutti Veramente Nel mio inventario Senza Smattarci troppo Ah si perché T'ho fatto tutti i blocchi T'ho fatto tutti quanti Gli antimatter E tutti gli energy collector Devi solo fare i fiori Ok Adesso vado a fare Serve Eh no perché Serve naturalmente No Serve la limatter Ma tu stai a fare Pure quelli E certo bro Qua Qua ci c'ho un casino No fidati Basta Basta quello Basta il blu Cioè basta il Ciano Basta il Ciano Basta il Ciano Ma io non mi fido Tu fidati Ma facciamo il green No Ok va bene E' proprio quello dopo Faccio il green Vabbè anche il line E' quello dopo il green Eh si Ma già l'ho fatti I blocchetti qua Quali blocchetti hai fatto? Ma che cazzo Sto mettendo roba Vabbè Eh però Ma perché devi fare Queste cose No c'è un problema Ha preso proprio E' arrivato io E' arrivato io Che cosa c'è qui dentro? Io lo porto su E' carino Io non volevo ragazzi Non volevo Ma lo giuro Tieni Un regalo No non voglio regali Mi frega un c***o Mi sta scomparendo tutto dal sistema Ma non c'è un problema Abbiamo una falla nel sistema No questa scompare Mi manca il ciano flower Sì Però mi mancano i cian I cian anti-mater Lea Eh sì sì M perché guarda dietro di te Dove sta tutta la roba C'è stato un trasloco Eh ma se non è proprio Istantane per colpa Di stream elements Purtroppo Ma Ieme apri Il shunt cube Mega torcione ti prego Salvaci Salvaci ancora Se scuote qualcosa No io resto qui Io resto qua Ambo resta lì Io resto qui Cioè Ambo ho fatto cosplay Del capitano del titanic Io per fortuna Che sono un No ma qual è il capitano del titanic Del titan Io per fortuna No eh ma era per me Sei proprio un ladro Io sono un previtente Non l'ho letto No non l'ho letto Fletta scusami Guarda Eh sarebbe stato pure più a tema Io dovrei iniziare a mettere il Il TTS Perché così Sento direttamente i suoni Cioè la donazione che parla Perfetto regà Dobbiamo portare tutto giù adesso Trasloco di nuovo Ma ci sono ancora i cavi? Non l'ho ripiazzato io Io ci credo Io ci credo Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare raga Mi porta tutto giù Ah si è fermato regà Ecco perché non ciuccia più Eh sì sì Però tanto ne servono altri Quindi togli quella roba Togli quello E E Ne servono tipo Un altro stack Almeno quattro stack Tipo cinque Di questi qua? Sì sì Fatto Ma di tutti Di tutte le singulari No stai ricucciando Stai ricucciando tanti milioni Di nuovo Una rega scende Scende troppo veloce Eh ma è tranquillo Allora Io sono tranquillissimo Non ti dico qua Appena facciamo il green Che tu hai voluto fare Per forza il green Risolviamo tutto Certo I nostri problemi sono Io ancora il cello Non posso craftarlo a capo Ammetti Vuoi aspettare due secondi No 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 Lui Lui non ci aiuta E ragazzi Vuole subito tutto Spostati E io dove mi devo spostare Non ho capito Dove ti devi spostare Scusa Dove mi devo spostare Non ho capito Non ho capito Dove ti devi spostare 3 2 1 No rega No rega Io 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 rega E qui E se Aia Io 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 crafto No dai dai Io una mano rega Dai lo annichiliamo E' nabbo E' nabbo E' nabbo E' nabbo Rega E' nabbo E' nabbo E' nabbo Mi sta sciottato Troppo scarso Rega ha rotto il fogo Ha rotto la parte No Sopra sparire Ha rotto un po' di napoletano Nel portale Rega Dobbiamo Una fangura Ok Olè Sono il king Della big hardcore Della big hardcore Ok Va bene Allora Favetta grazie per i 50 Non dovevi Favetta Grazie mille Veramente Crafta il green Sarcazzi qua Grazie grazie mille Ma non posso craftare Ah perchè adesso devo fargliano tutti di fila Questo Eh si Devo fare questo Devo fare questo Che devo fare questo Che devo fare questo Che roba Che devo fare questo Che devo fare questo Che devo fare quello Che devo fare questo Se vuoi puoi fare Usa la cosa appena graffata Puoi fare uso la cosa appena graffata Ok che devo fare questo Ok che devo fare questo E basta Ok c'ho Il green Ok Lo inserisco giù Cosa stai facendo? Come me È un pollice No non è un pollice Lo inserisco nel sistema Ok è me Sì sono io Come si chiama? Green power flower In che sistema In che sistema In che sistema Lei hai messo? Quello giù È nel senso in quale? L'unico che potevo aprire praticamente Ah ok Quindi l'unico che non ha il cavo Ok hai ragione scusa Ah non lo posso mettere qua dietro Lo posso mettere qua dietro Ho fatto Che ve lo puoi mettere Scusa Già già fatto Già fatto Ok 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 Adesso Si chiama green Sì Ok Ne prendiamo Ne prendiamo metà Ok Ok Tieni questi Raga Raga veloce Abbiamo 10 g Quanti ce ne hai? Ne ho uno Passameli Ok Mettili a terra Hai fatto la tua farm Eeeeeee E che devo fare? Perché non va? Bro Bro Ah giusto Bro uno Eeeh Pedestal Eeeh Ah non c'è già Oh Si sta recuperando Si sta recuperando Ragazzi giusto in tempo Ah no facciamo Facciamo una cosa magica Nella stanza delle cose Mi hanno spiegato nel tempo Uno due tre Ragazzi Giusto in tempo Ne posso fare un altro E me Eeeh Arriva 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 Arrivo Ti dico Mamma mia Metto Ok Vai Ok sta tankando Ok Siamo a più 1,5 g Ma le farm sono attive Sì Ok Sì Scusa Dove sono tutti i nostri MC? Vuoi capire che Li abbiamo persi I MC? No è impossibile Certo che li abbiamo persi E comunque Alcuno di voi Ha preso 32 Di quei cosi Eh infatti Dove sono finiti? Eh ma non so Dove sono finiti Non ce li ho Di cosa? Di green power flower Vabbè Si sta Sta recuperando Tanto adesso Guarda Tac Ne prendo un altro Ok Prendi anche Sti due Esatto Pam 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 E pam Più cinque Per futuro Fuguro apri No Apri Perché proprio qua Eh è qui è ormai andato Mi spiace Un napoletano Che cos'è? Ah puoi puoi fare la leva? Oddio 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 Non la voglio Cos'è esce? Cos'è esce? Non la voglio Una macchina Una macchina? Non la voglio Che cos'è? Cos'è? Tipo Un cazzo di niente Sorry Ah ti ha dato Il call Un blocco di carbone Hai capito? Ok Ma me la befana Hai visto Allora Ambo Ecco Ragazzi Ah ce li avevi tu? Li ho presi io Ok Eccoci Guardate quanto farmiamo adesso Allora se vuoi M adesso Possiamo fare quello finale Proprio vuoi essere sicuro In tutto questo metano? Ma in tutto questo metano? In tutto questo metano? No no Perché metano mi ha scritto una cosa brutta? No 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 Non voglio No mi sono spaventato Favetta grazie mille per il lama E l'ha già rubato Eh certo Favetta l'ha già rubato? Ha già rubato il lama? L'ha già rubato? Ah ma è vero Non abbiamo il posto dove mettere gli animali Ah Tano dice che c'è Perfetto Perfetto Ok Tano scrivi anche a Fresh Così viene anche lui intanto Anche gli altri se ci sono Ok Già raga siamo a 1.2 trilioni C'è Vi rendete conto Chat? C'è No sense Ce l'abbiamo fatta Io ne avevo uno stack nell'inventario Perché l'avevo preso prima Ok siamo già tre stack di magenta Comunque Io l'ho messo io a posto Favetta Ah Ok ok È al sicuro Adesso posso assicurare Beh guarda Ambo Idriche possiamo anche rimanere così Sinceramente Non ha senso fare gli altri Però mi dà fastidio Che di qui ce ne sono tre Di qui ce ne sono due Hai ragione Ambo Aspetta ne prendiamo un altro poio Dai Grazie Ora è giusto Ora è giusto Olè Stunk Dentro A posto Fatto Vabbè per la prossima live Ok Cercherò di mettere Quindi adesso ragazzi Il nostro obiettivo Sarà creare Dentro questa stanza Tutte le farmetti Perché Per M con tanti kaboom Favetta Qui non ci sarà nessun kaboom Oh cazzo Va bene Aspetta Fermi tutti Tranquilli Sono un ingegnere Vuoi provare la cosa? Sta zitto Ambo Ci penso io Sta zitto Ambo Non ti permettere Ci penso io Regà Non lo stai guardando Sta giocando col fuoco Ci penso io Non ci penso lui Aspetta Devo Così un blocco alla volta No La mia banda Su un erro L'ha distrutto L'ha rotto Non c'è più Godo Godo No Raga ci hanno griffato Mezza farm Ma Godo Vabbè dai Tanto li riprendi Ce n'hai già 7 miliardi Nel coso Giusto? Puoi già riprenderti Puoi già prenderne 230 Ambo Mo li prendo Mo li prendo Sistemato tutto raga Tutto fissato Nessun problema No problemo Fuguro puoi ripiazzare La roba Io non so quale e quale Quindi non so Uno a caso Vediamo se è quello giusto Resco Sono perfetto Sono bravissimo 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 Grazie mille Favetta veramente Per tutto il supporto Grazie mille Per le donazioni Ok Ci siamo Vedete un ender Che vola Mi sa che non È volato in cielo Molto Molto in alto È andato dove Meditava di stare Eh sì sì È andato proprio lì Raga So senza orario Non so quando Stacco altro Però so una cosa Che adesso ragazzi Vado al volo Un attimo Un minuto in bagno Ok Torno subito Ok Spero che non succeda nulla Prendi dell'acqua Arrivo raga Arrivo Vabbè la Favetta Però se le cerchi A me l'enderman Non sarà simpatico Quindi è morto Mi aiuti? Fa cosa? Eh Spingi Meglio sento affogare No Non è vero È in un posto sicuro Perfetto Uff Sì ma qua è esploso tutto Si vede l'uomino Lassopra Che è C'ha due occhi Ma sta bene Quella era la nostra Acqua infinita Non abbiamo più acqua È vero C'è un sacchie d'acqua Dentro Non prendere È esploso God 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 È l'ossidiano Ancora qua È l'ossidiano Porco Porco Porca Puttana Ah Noi ci abbiamo provato Guardi È lato positivo Si è morto tu E non Non le farmo Esatto Ragazzi Che è successo? Noi ci abbiamo provato Ma è Abbiamo sempre lito vivo Ragazzi Che è successo Ragazzi Cosa è successo Ragazzi È stato troppo veloce Ragazzi Che cosa è successo? Quando uno è troppo veloce Ragazzi Che cosa è successo? Em Em Sinistra Destra Vai Ragazzi Che cosa è successo? Buon viaggio Ragazzi Che cosa è successo? Non è successo nulla È arrivata una persona Squisita Che ha fatto Favetta Grazie per i 25 euro Grazie per la donazione Ragazzi Che cosa è successo? Perché sono morto Io e voi no? Perché tu eri in un buco Noi eravamo solo a guardarti nel buco Esatto Capisco È stato velocissimo Non potevamo Em c'è un problema Non mi risulta nessun problema Orca troia Non ti entra più la roba nel 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 coso Vabbè Io un attimo Prima che esplode tutto Ne volevo approfittare per fare una cosa Un momento Faccio il volo Lo screenshot È mai brutto È distrutto Non si vede Fucuro Metti il volo al centro Metti il volo al centro Vai Ok Guarda 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 Ok Questo qui ragazzi Ormai lo vedete sul canale Emerald Live Sarà la miniatura Sarà il rito napoletano Perfetto Ragazzuoli Detto questo Io direi Che per oggi con le pretenze Ci siamo Quindi Proseguiamo la nostra serata Su Counter Strike Abbiamo 11 casse da aprire E come sembra Questa sera Ogni 4 sub Apriamo una cassa Ne ho già prese Più di 100 Così siamo Velocissimi ad aprirle Dipende tutto da voi Quindi Ringrazio Ambo Ringrazio Fucuro Siamo verso la fine Di questa serie ragazzi Devo stanto formare Tutte queste cose E ci siamo Let's go Grazie a tutti